Codacons Acquaviva vi saluta cordialmente questo appuntamento con una rubrica che parla delle segnalazioni degli utenti, dei consumatori, che parla di ambiente, parla di servizi erogati a favore dei cittadini che diventano quindi utenti. Ogni comunità ha la sua amministrazione, ogni comunità dovrebbe avere la sua associazione a tutela dei consumatori, dei contribuenti, degli utenti, dei cittadini, sì, perché? Perché prima che si salga il palazzo del potere del comune, tutti sono disponibili a recepire le osservazioni dei cittadini, nel momento in cui si siede nella poltrona, sulla poltrona di primo cittadino di consigliere comunale, in molti casi questo rapporto viene meno. E allora lì subentra il ruolo di un'associazione che a tutela dei contribuenti, degli utenti, dei diversi servizi, deve intervenire nei confronti della pubblica amministrazione per far notare quelli che sono i disservizi, i disagi. Dall'altra parte ci deve essere un amministratore che debba poterli recepire, perché? Perché il gioco delle parti, il ruolo impone all'amministratore di governare, ma anche di recepire le doglianze dei cittadini e quindi in quanto utenti delle associazioni che li rappresentano. Spesso questo non avviene, non perché gli amministratori siano sordi, non perché siano disattenti, ma perché nella loro indole, non certo di tutti, ma sono poi i fatti che lo dimostrano, dove ci sono i sindaci attenti e gli altri disattenti, perché c'è chi evidentemente non ha quella formazione, quella cultura di una classe politica che oggigiorno si è sfaldata rispetto al passato. Il post di oggi è la nostra sicurezza salvaguardata a seconda delle scelte politiche di chi ci amministra. Certo, perché è vero che ci sono le norme, le leggi, poi ci sono le circolari, le direttive, ce ne sono di tutti i colori nel campo della sicurezza, poi ci sono i diversi prefetti che ottemperano a quanto gli viene indicato, comunicato, richiesto dal Ministro dell'Interno, quindi i prefetti poi hanno il compito di relazionare, di confrontarsi, di sollecitare i diversi sindaci, che sono poi quelli che stanno veramente nel territorio, coloro i quali non stanno dietro una scrivania e quindi non si limitano a leggere le direttive, le circolari sulla sicurezza, ma sono coloro i quali poi devono fare in modo che quanto scritto avvenga, si sviluppi, venga interpretato giustamente e messo in opera a livello locale. Parliamo di Acquaviva delle Fonti, ecco perché queste fotografie si riferiscono a una strada che è provinciale, la SP 127, dove notiamo bene che la sicurezza stradale non viene per niente presa in considerazione, ecco forse perché il titolo la nostra sicurezza salvaguardata a seconda delle scelte politiche di chi ci amministra, perché se la città metropolitana sa che si stanno effettuando dei lavori e che quindi quella strada è sottoposta alla circolazione, alla movimentazione di alcuni mezzi, come una pala meccanica, chiamiamola così, ebbene ci deve essere qualcuno che deve andare a verificare per salvaguardare la sicurezza degli utenti della strada. Se continuamente, ogni volta si vedono queste immagini, vuol dire che quel qualcuno lì non ci è andato o quel qualcuno ci è andato e non è stato ascoltato, o ci è andato e non ha visto quello che avrebbe dovuto vedere o ci è andato nel momento in cui quanto noi invece vediamo tutti i giorni, lui non ha potuto verificare, perché proprio quando è andato chi doveva salvaguardare la nostra sicurezza stradale, li filava tutto liscio, guardate un po' ragazzi, succede anche questo nella nostra bella Italia, ma venendo ad Acquaviva delle fonti c'è il mercato settimanale, il mercato settimanale porta molti avventori, lo abbiamo già detto, sì, ed è bene che sia così, il mercato viene fatto perché ci sono dei commercianti che mettono a disposizione la loro merce per gli avventori, per i clienti, certo non gratuitamente, quindi il cliente paga e per poter scegliere il suo prodotto deve circolare, deve passeggiare per l'area mercatale che deve essere messa in sicurezza, cosa cambia da un corteo a un mercato settimanale? È comunque un momento in cui c'è molta gente che affluisce e si ritrova all'interno di un'area mercatale, sono migliaia di persone evidentemente, chi da una parte, chi dall'altra e allora la provocazione, la sollecitazione, il post del Codacons di oggi è la nostra sicurezza salvaguardata a seconda delle scelte politiche di chi c'è ministra, perché per quanto riguarda Acquaviva delle Fonti notiamo dalle immagini che non c'è nessuna barriera, ma noi non vogliamo in New Jersey, non vogliamo le colonne di cemento, non vogliamo i camion, i tir che facciano da barriera, ma quantomeno una transenna che indichi anche all'automobilista che non è di Acquaviva delle Fonti che da quella strada non si può passare, perché c'è il mercato settimanale, perché è una strada inibita al traffico e invece le foto, le immagini, ma quanto noi Acquavivesi tutti i giorni vediamo con i nostri occhi è stato immortalato, non c'è nessuna transenna. Allora ancora una volta abbiamo il diritto in quanto associazione Codacons di dire, di gridare, di far notare che la nostra sicurezza salvaguardata a seconda delle scelte politiche di chi ci amministra. E a me piace dire delle coscienze civiche, istituzionali di chi ci amministra. Ora, in conclusione di questa rubrica non possiamo venir meno a quelle che sono le altre segnalazioni, che sono comunque sotto gli occhi di tutti, ossia la pulizia delle strade, delle bocche di lupo, delle catitoie, dei cestini, delle aiuole, quindi del verde pubblico. Sì, perché quando noi abbiamo detto ieri che si facevano alcune segnalazioni da parte del Codacons all'assessore all'ambiente, molti mesi fa, lo stesso assessore rispondeva, tra l'altro, che su molti temi segnalati è già in corso un'attenta valutazione da parte degli uffici comunali competenti, ai quali sono state trasmesse le comunicazioni di cui ha l'oggetto. Ora, senza voler mancare di rispetto a nessuno, né all'assessore e né uffici competenti, io oserei dire che siccome della maggior parte dei punti, di quei 40 punti circa, posti all'attenzione dell'assessore Bruno, sono stati segnalati, ma l'attenta valutazione ci sarà stata, la Codacons se lo augura, ma se c'è un'attenta valutazione e gli uffici comunali sono competenti, ne deve scaturire la risoluzione del problema, perché se il problema dopo mesi e mesi non è stato risolto, vuole dire che la valutazione non è stata attenta, oppure che l'ufficio comunale non è stato competente, perché se l'ufficio comunale non si rende conto che una strada da mesi non viene spazzata, un cestino da giorni non viene svuotata, che la spazzatrice quell'area PIP non la fa da molti mesi o da molti giorni, o non lo fa come dovrebbe farlo per contratto, evidentemente non ha operato secondo quanto scrive l'assessore, non ha fatto un'attenta valutazione e soprattutto gli uffici comunali competenti, la loro competenza non ha prodotto la risoluzione dei problemi, infatti noi segnalavamo per quale motivo era un quesito, non è garantita la presenza di due persone su tutti i mezzi che seguono il porta a porta, il mezzo che deve raccogliere la plastica, il vetro, l'organico o l'indifferenziato, tutti i mezzi devono avere l'autista e la persona al suo fianco, l'autista deve seguire il percorso, il suo tragitto rispettando il codice della strada, non bloccando il traffico, non parcheggiando individui di sosta, non occupando i passi carrabili, non rompendo le scatole agli cittadini utenti di acquogli delle fonti, per intenderci, sì, perché se si ferma in mezzo alla strada sta rompendo le scatole, soprattutto se lo fa alle 9, alle 10 di mattina sta rompendo le scatole, se lo fa da solo rompe di più le scatole, sì, perché deve scendere, raccogliere, svuotare il contenitore e poi risalire a bordo e muoversi, sta rompendo le scatole, abbiate pazienza, perché se non lo diciamo in questa formula, evidentemente la commissione o come che scrive l'attenta valutazione non viene fatta, o glielo diciamo in questi termini, state rompendo le scatole, glielo diciamo in questi termini perché così gli uffici comunali competenti capiscono cosa significa rompere le scatole, perché altrimenti altri linguaggi, evidentemente se quelli scritti non sono ben compresi, bisogna dirgli che stanno rompendo le scatole, abbiate pazienza, sì, perché invece secondo la Coda Consigliacqua Viva e dovrebbero interessarsi anche i sindacati, io ritengo, ci deve essere chi guida il mezzo e chi svuota i contenitori e comunque sicuramente quel mezzo, così come è previsto dal disciplinare, dal contratto e da quanto è stato sottoscritto, non deve intralciare il traffico, bloccare la viabilità e non rispettare il codice della strada, quindi nemmeno andare contro senso, per intenderci, ci siamo capiti, penso proprio di sì. La Coda Consigliacqua diceva, per quale motivo non riuscendo fino ad ora a garantire i livelli minimi di pulizia delle strade, così come si evince dal monitoraggio della scrivente associazione, l'amministrazione comunale non ha chiesto di disporre di maggiori mezzi e di organico per garantire il corretto espletamento di tutti i servizi previsti dal capitolato. insomma, se il personale va in malattia, in infortunio o in ferie, l'amministrazione comunale lo avrebbe già dovuto preventivare questo, perché già la Coda Consigliacqua mesi e mesi orso uno, gli aveva detto all'assessore Bruno, ribassandosi, sì, la Coda Consigliacqua si ribassa, certo, perché se d'altra parte ci sono persone che non capiscono, la Coda Consigliacqua ufficialmente dichiara che si sta ribassando, si sta ribassando a livello di chi non capisce, di chi non ricepisce, di chi non risolve i problemi, di chi prende i soldi della pubblica amministrazione, giustamente come indennità e non risolve i problemi, al contrario dell'associazione che i soldi non ne prende e lo fa gratuitamente e volontariamente. Questa è la forte differenza tra un'associazione a tutela dei consumatori che pagano quasi 3,5 milioni di Euro all'anno per un servizio e anche per spazzare le strade, in questi soldi ci sono anche quelli spesi per spazzare le strade e un assessore che percepisce un'indennità mensile. Questa è la differenza, chi è volontario e chi invece è stipendiato, per noi è stipendiato l'assessore Bruno ed essendo stipendiato deve dimostrare tutti i giorni di guadagnarsi quello stipendio e per quanto riguarda l'ambiente, l'ecologia, questo servizio, evidentemente per quello che riguarda la Codacons di Acqua Viva, quello stipendio non è ben speso, è chiaro, è chiaro perché le strade sono nelle condizioni che vediamo, perché le bocche di lupo sono sporche nelle condizioni in cui vediamo, perché le caditoie sono nelle stesse condizioni, perché i cestini sono sporchi, perché il verde pubblico non viene salvaguardato, come dalla sporcizia che rimane lì per tanti giorni. E quindi noi ci ribassiamo ancora una volta alla disattenzione, alla malcuranza, alla malamministrazione di questo assessorato affinché finalmente ci dimostri che le caditoie, le bocche di lupo, le strade come la via o la regione ferroviaria, vengono spazzate quotidianamente, perché quotidianamente i cittadini hanno sottoscritto per il tramite dell'architetto Cuffaro il 15 giugno un impegno contrattuale, l'impegno di spendere ogni anno per il 2017 3,5 milioni di Euro e a fronte di questo, dall'altra parte ci deve essere una ditta che deve rispettare al centesimo i patti contrattuali. Che cosa risponde l'assessore? Le comunicazioni di cui all'oggetto, in questa famosa lettera del 10 marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, cinque mesi, noi non ci possiamo ribassare ai tempi megagalattici dell'assessore Bruno. Gli utenti e la Codacons non possono ribassarsi ai tempi megagalattici dell'assessore Bruno che il 10 marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, cinque mesi e quasi sei il prossimo 10 settembre ci scrive le comunicazioni di cui all'oggetto sono state altresì trasmesse alla direzione dell'esecuzione del contratto, la quale potrà assumere le valutazioni di propria competenza. Noi paghiamo l'assessore Bruno e di che cosa faccia? Il direttore dell'esecuzione dei contratti alla Codacons non gliene frega niente. I cittadini di Acquaviva e quindi gli utenti pagano l'assessore Bruno e gli interessa che l'assessore Bruno non risponda a una comunicazione che abbiamo inviato, ma che diffidi l'azienda e lo stesso direttore va diffidato affinché venga rispettato il contratto perché la Codacons ha messo a disposizione dello stesso assessore Bruno tutte le immagini, tutta la documentazione e fior di segnalazioni affinché potesse valutare serenamente e oggettivamente che c'è qualcosa che non va in questo contratto così come viene espletato e quindi dire al direttore dell'esecuzione dei contratti che anche nel tuo potere risolvere il contratto. Lo prevede la legge, non lo dice Gino Maiulli, lo prevede quello che è la figura del direttore dell'esecuzione del contratto. Ma non dobbiamo fare noi la formazione all'assessore Bruno che con i soldi che prende dell'indenità se la può pagare, sono altri che gliela avrebbero dovuta fare e soprattutto noi ci chiediamo quando apriremo questo tavolo così ne potremo dire a quattro occhi e in faccia e su quel tavolo certe cose affinché finalmente a quattro occhi oltre alle risatine ci giungano le risposte perché dove le risposte non vengono evidentemente c'è un'omissione, che l'omissione sia fatta dall'assessore probabilmente, dalla ditta probabilmente o dal direttore all'esecuzione del contratto, probabilmente a noi non interessa. A noi duele è interessa che le strade siano sporche, che le bocche di lupo siano ostruite, che le caditoie siano sporche, che i cestini siano pieni e che il verde pubblico non venga pulito così come previsto dal disciplinare e dal contratto. Il resto sono chiacchiere che lasciamo alla politica e a quei partiti che purtroppo fino ad oggi ad Acquavia delle Fonti hanno dimostrato il flop nel seguire e applicare quel contratto che il loro architetto Cuffaro il 15 giugno del 2016 ha sottoscritto.